Maggiore trasparenza e velocità per certificare il profilo antimafia delle imprese operative nel settore delle costruzioni in un momento strategico come quello della partenza dei cantieri del piano nazionale di rilancio e resilienza in un territorio come la provincia di Salerno che vanta ben 158 comuni con una significativa presenza di cantieri di grande rilevanza per numero ed estensione. E' l'obiettivo al quale mira il protocollo d'intesa siglato questa mattina dal prefetto di Salerno Francesco Russo e dal vicepresidente del lance AES Salerno Fabio Napoli alla presenza del questore di Salerno Giancarlo Conticchio e dei comandanti provinciali dell'arma dei carabinieri Gianluca Trombetti e della guardia di finanza Oriol De Luca. Il documento nasce con la finalità di incrementare l'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore edile e fa seguito ad analogo accordo già stipulato a livello centrale tra il ministero dell'interno e l'associazione nazionale costruttori edili. Con le forze dell'ordine pronti ad offrire la loro massima collaborazione come è stato sancito al tavolo in prefettura questa mattina, l'accordo consentirà alle imprese aderenti di consultare per il tramite del lance la banca dati nazionale antimafia del ministero dell'interno allo scopo di verificare il profilo antimafia dei propri partner commerciali e contrattare esclusivamente con soggetti per i quali sia accertata l'insussistenza di motivi ostativi. Perché in pratica funzionerà con una possibilità che l'impresa che deve sottoscrivere un contratto possa richiedere direttamente a noi dall'associazione, logicamente un'impresa associata che è debito a questo tipo di protocollo, avere tutte quelle informazioni necessarie per poter capire con chi trattare e quindi fermare all'origine diciamo quella che è la possibilità e l'infiltrazione da parte di qualsiasi tipo di malintenzionato, di quelle che sono diciamo problematiche che noi purtroppo viviamo nel nostro settore. Quindi da la possibilità di avere una trasparenza, avere nell'interlocutore la capacità di capire con chi poter trattare. Quindi è di fondamentale importanza, è una linea tracciata nella trasparenza, ne avere massima possibilità di avere minore infiltrazione criminale e quindi questo per noi è il motivo di tranquillità. È un servizio aggiuntivo che diamo ed è un'importante soddisfazione che facciamo livello provinciale e anche livello nazionale. Quindi è un importante punto di partenza per avere maggiore trasparenza e minore concorrenza sveare da parte di terzi. Con Ance noi già abbiamo fatto vari passaggi, voi sapete appunto del protocollo dell'anno scorso per il contrasto al lavoro nero, con la creazione della piattaforma che sicuramente rende la situazione molto più controllabile ed accessibile a tutti. E adesso c'è un importante passaggio, questo è un atto aggiuntivo, è un atto più che altro esecutivo di un protocollo di intesa stipulato fra il ministro dell'interno e il presidente dell'ANCE a livello nazionale e che consente alle strutture dell'ANCE di entrare nella banca dati antimafia con delle limitazioni evidentemente previste per tutti coloro i quali non siano i professionisti, le forze di polizia e la prefettura della consultazione della banca dati, in modo tale da cogliere gli alert nel momento in cui le ditte associate che aderiscono al protocollo chiedano a l'ANCE di verificare se eventuali subappaltatori possono avere dei problemi per cui poi evidentemente non stipulare contratti con loro. E' la difesa anticipata. A margine dell'incontro il prefetto di Salerno ha anche anticipato ai giornalisti la sua disponibilità ad apportare modifiche all'ordinanza sulla viabilità in costiera amalfitana come emergerà domani da un incontro convocato in prefettura. Domani noi faremo una verifica a tutto campo insieme all'ANCE praticamente per apportare eventualmente quelle modifiche, quegli aggiustamenti che siano compatibili con una gestione ordinata del traffico in modo tale che possa essere ben recepita questo tipo di modifiche. Tenete conto questo insomma, tutto quanto quello che viene fatto sulla costiera amalfitana è comunque parte dalla richiesta delle comunità locali, dalla richiesta dei sindaci. Poi alla fine c'è il prefetto, l'ANCE e via discorrendo, ma tutto quanto è frutto di un accoglimento delle richieste da parte dei sindaci. Si parte da questa considerazione, il traffico sulla costiera amalfitana è un traffico indubbiamente molto complicato. Noi già nel 2019 apportammo alcune modifiche, ma con l'accordo di tutti evidentemente la prefettura fa solo da coordinamento, mette insieme quelle che sono le volontà dei sindaci praticamente. E poi dopo abbiamo apportato le modifiche quando riguarda gli autobus e per quanto riguarda poi c'era stata anche questa ulteriore ordinanza dell'ANCE, ordinanze anche da parte dei sindaci perché lavorano in parallelo i due tipi di ordinanze, per le targhe alterne. Il 20 e il 21 sono stati anni particolari per cui queste ordinanze sono state sospese, adesso le ordinanze sono partite, bisogna adesso in corso d'opera individuare quelle che sono gli opportuni correttivi per cui faremo questo tipo di passaggio. Ma noi domani poi... Grazie a tutti.